Siamo in compagnia del relatore della prima giornata del seminario sui modelli organizzativi delle esecuzioni immobiliari a 5 anni della riforma, il magistrato di legittimità, la dottoressa Luciana Barreca. Buongiorno. Giudice Barreca, prima della prestigiosa nomina di giudice di legittimità, lei ha svolto la funzione di giudice dell'esecuzione e sono autorevoli e ben noti i suoi contributi soprattutto in materia di opposizioni esecutive. Ora io le chiedo se ed in che modo l'esperienza pratica di giudice dell'esecuzione influenzi la risoluzione delle questioni controversie delle espropriazioni immobiliari che si trova ad esaminare in sede di legittimità. Beh, indubbiamente ho vissuto un'esperienza particolarmente intensa verso il Tribunale di Roma dove ho fatto appunto, ho svolto la funzione di giudice dell'esecuzione per più di 5 anni in un periodo in cui entrava in vigore la riforma. Ed è proprio, sono proprio le norme sulla riforma del processo esecutivo che oggi sono, diciamo così, sotto la lente, sotto l'esame del giudice di legittimità. Cioè quelle norme le cui prime applicazioni ho vissuto dal giudice dell'esecuzione sono ora, diciamo, scrutinate dal punto di vista della legittimità. Quindi evidentemente l'esperienza vissuta nelle prime applicazioni mi aiuta indubbiamente a leggere e interpretare le norme anche alla luce delle ricadute pratiche che una interpretazione piuttosto che l'altra pur astrattamente possibile a volte magari tenendo conto della, diciamo, portata astratta del precetto normativo dicevo sulle conseguenze che invece l'una piuttosto che l'altra scelta interpretativa possa avere sul lavoro, direi, quotidiano dei giudici del merito, quindi dei giudici dell'esecuzione. Quale pensa sia l'importanza di ritrovarsi a 5 anni dalla riforma sulle esecuzioni immobiliari? Beh, direi che ci sono aspetti di prassi organizzative che sono state, come dire, iniziate e sperimentate. Oggi possiamo tirare le fila valutando i pro e i contro di determinate scelte, nel senso che magari alcune scelte che ci sembravano ottimali nella fase iniziale si sono rivelate non particolarmente utili e allora insieme stiamo pensando ad eventuali rielaborazioni, magari invece diffondendo prassi che sono già seguite in alcuni tribunali ma non hanno avuto un'adeguata diffusione. Quindi direi per un verso rivedere quello che si è rivelato non del tutto utile e per altro verso invece diffondere le prassi vincenti. La ringrazio. Prego, grazie a voi.